Sei spettacoli in abbonamento e uno fuori, la maggior parte in esclusiva per l'Umbria e nessuno in coincidenza con le stagioni delle città limitrofe. Il teatro della filarmonica di Curciano ricomincia a ospitare grandi nomi dello spettacolo e giovani promesse. Il cartellone è stato presentato giovedì 20 ottobre a Perugia, nel Foyer de Morlacchi. Orgoglioso all'assessore alle attività culturali Lorenzo Pierotti, che a nome della Giunta Betti ha ricordato lo spirito che gli ha aspirati fin dall'insediamento. Ad aprire il ventaglio di proposte il 18 novembre sarà Anna Mazzamauro con Nuda e Cruda, così come ha ricordato Bianca Maria Ragni del Teatro Stabile dell'Umbria. L'inaugurazione che è affidata il 18 novembre ad Anna Mazzamauro, che con il suo spettacolo Nuda e Cruda, attraverso una carrellata di personaggi caratterizzati dalla sua comicità un po' atipica, ci racconta proprio questo, ovvero anche momenti drammatici della storia di una donna o di un personaggio famoso, però sempre in chiave comica, alternando i due registri. E così, continuando, per esempio Siria, che sarà protagonista il 7 dicembre in esclusiva regionale al Teatro della Filarmonica di Corciano, ci racconterà un pezzo della musica leggera italiana, anche attraverso i Dietro le Quinte, che la sua carriera le hanno permesso di scoprire, con naturalmente una serie di canzoni bellissime che divertiranno e appassioneranno il pubblico.